Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di un mondo di cubi Ragazzi e ragazzi e ragazzi anche oggi siamo qua con un nuovo episodio di questa serie fantastica veramente Mi sto divertendo di un casino con voi ragazzi E novità importantissima ho aggiunto una torcia lassù Si cambierà drasticamente il gameplay per sempre Allora mancano due librerie Due librerie sono sei libri Andiamo a casa a vedere quanti libri abbiamo ancora E appunto vediamo di finirli oggi Almeno poi potrò lavorare un pochettino off camera su dei picconi E cercare questo piccone con se il touch o fortuna per andare a pegliare tutti quei belli diamanti che mi aspettano Allora vediamo un po' vediamo un po' Qua c'è sempre il nostro albero gigante Adesso saliamo un attimo di qua Allora Vediamo 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 quanti libricini abbiamo Due Due quindi ce ne mancano quattro Bene Se ci mancano quattro libri vuol dire che adesso Si incantiamo le mucche ragazzi E non so dove ho tirato fuori questa Incantiamo le mucche E poi le chigliamo Le chigliamo almeno quattro Almeno Allora andiamo a far accoppiare tutte quante le allegre mucche Allegre mucche accoppiatevi Senza pietà Ok Grazie fatemi entrare Eh si Se qualcuno di voi è vegetariano non guardi le prossime scene What aaa Niente pelle Alla prossima Un pezzo di pelle Uh due pezzi di pelle brava Hai salvato le tue compagne Quattro pezzi di pelle Siete tutte salve voi Brave Ok Qua logicamente sto laggando un pochettino Ma non c'è nessun problema Ehm Andiamo qui e mangiamo Allora posiamo un po' di roba e poi mangiamo Allora posiamo la roba qua Ehm Fatemi pensare Mmm Mi serve della carta direi Si Ottima idea Però carta non ne abbiamo perché non ho canne da zucchero Mi serve della canna Da zucchero Ehm Allora scendiamo giù di qui E andiamo a vedere Le nostre canne da zucchero sono cresciute Sembrerebbe di si Molto bene Qualcosina è cresciuto Logicamente crescono alla velocità Delle Non so cosa Crescono veramente pianissimo Però Meglio di nulla Ehm Ma scusate a sto punto Faccio un bel affare Allora faccio Allora mi servono Ne ho un pezzo casa Tre Mi danno tre foli di carta Se non sbaglio No mi danno Mi danno tre foli di carta Quindi mi servono altre tre almeno Faccio una cosa Le pillo tutte Quelle che avanzano Le vengo a ripiantare Eh si Mi spiace Giusto per preservare la specie Delle canne da zucchero Rarissime Ne pianto una Facciamo Quattro Ecco E' già più fattibile Risaliamo Lungo questo Pericolosissimo Pendio Ok Anche oggi ragazzi Ci saranno molti saluti A fare Non tanti come un'altra volta Perché l'altra volta è stato veramente un boom Ce ne saranno ben quattro oggi E e e Vediamo un po' Mmm Mi serve Allora mi serve Mi serve Mi serve del legno anche Sì cosa piazzo le torce Non lo so E' Qua farò delle torce E' Mmm Avevo già la pelle Sono un pollo Sì Sono abbastanza un pollo Mi serve del legno Più legno Ok Direi che può bastare Allora Cominciamo a craftare Crafta 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 Vediamo un po' Track No Cosa sto facendo? E' così Giusto? Si 3 6 9 Sono 3 librerie 4 librerie E' così credo Spero Mi auguro Vediamo un po' Si perfetto 6 libri Trackete Storto come Non mai Ok E di nuovo 2 librerie Ok ragazzi Direi che abbiamo Bell Bello che è fatto Il nostro Lavoro Allora Questo qua Andiamo a posarla Questo lo andremo a ripiantare Adesso E cos'altro ci serve? Ci serve Ci serve Ci serve Del carbone 7 pezzettini Di carbone Allora 7 pezzettini Di carbone Eccoli qua Ok Quindi Direi che Crafto Le mie torcine Ok Perché Sono accorto E vado Verso La mia Carissima farm Finalmente La concludiamo In questo Episodio Ragazzi Abbiamo Entro Appunto Entro Il decimo episodio Abbiamo raggiunto Un metodo Di esperienza E abbiamo La possibilità Di avere Tutti gli incantesi Mi avete inviato Veramente Veramente Tanti Tanti screenshot Infatti Voglio ringraziare Principalmente Due utenti Che mi hanno inviato Di screenshot Che sono Antonio E Luca Che ringrazio Per appunto Per il loro screenshot Per il loro Aiuto E qua Ho farmato Anche un pochettino Di Di roba Vedete che mi sono Caduti anche Dei pezzi D'armatura E degli archi Infatti Questa farm Diciamo Che ha un'efficienza Che col passare Del tempo Aumenterà Perché Appunto Più si sta In una zona Più quella zona Diventa Popolata Di mob Non so Fino a che punto Possa arrivare So che Nel precedente mondo Riuscivo a trovare Certe volte Dei mob Full iron E erano Abbastanza Forticini Comunque Adesso di qui Vi faccio vedere Che ho lavorato Un pochettino La Situation È Abbastanza Spianata Oddio Di nuovo Il nostro F3H Amatissimo Se vedete Che il lavoro Che ho fatto È veramente Molto Guardate qua Quanto spazio Che abbiamo Per costruire Tutto quello Che vogliamo Direi 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 Che costruiremo Con la mesa Alle spalle Quindi Direi che adesso Prima di tutto La costruiamo Completamente In creativa La casa O comunque Quasi Completamente E poi Andremo a riportare Qua Quindi Penso che Il resto Dell'episodio Lo passeremo In questo Bellissimo mondo Adesso non capisco Perché il mouse È rincoglionito Ok Perfetto Allora Qua cominciano i problem Perché cominciano i problem Ragazzi Perché veramente Non so come farlo Ho visto tanti screenshot E i vostri screenshot Mi hanno dato Soltanto più Idee diverse Quindi adesso Ci penserò Allora Ragioniamo Abbiamo tanta Argilla Tanta argilla Quindi calcoliamo Che tutti questi blocchi Escluso questo qua Perché fa schifo E sono Alla nostra portata Molto facilmente Mi serve un blocco Che si abbini bene Con questo E se fosse tipo Questa clay qua O questa clay qua Che mi piacciono Un casino Questa Tu sarai la clay Che utilizzerò Che si fa Con il Con l'azzurro Vediamo un pochettino L'azzurro Giusto per ricordarmi Azzurro Il pomeriggio È sempre azzurro Oddio Non esiste Il color azzurro Proviamo il blu Tinta blu chiara Ok quindi Adesso Prendendo Dei lapislazzuli Lapislazzuli E un tavolo Da lavoro O banco Da lavoro Ecco E prendendo Della clay Della argilla Cotta Normalmente Che anche questa È abbastanza carina Ok Dovrei riuscire A fare una cosa Di questo genere Oddio Il mouse Cosa sta succedendo Allora Andiamo di qua Andiamo di qua Siamo in una crafting table Dove vuoi andare Ferre Dove vuoi andare Allora così E Cosa sto facendo Ce la faccio Ok E così Ottengo questa qua Why Forse così Forse così Aha Aha Eccola qua Ok perfetto Abbiamo scoperto Anche come si Crafta Perché avevo il dubbio Esistenziale Del crafting Supremo Eliminiamo Giusto un po' Dico Dio mio Via 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 Ok mi sto rompendo Veramente basta Via Allora Dobbiamo pensare Come fare la casa E' un bel casino Perché io ho veramente Tanti progetti Oddio Un po' di lag Non manca mai Allora Come cominciamo Cominciamo con Il vetro Perché il vetro Perché voglio fare una cosa Molto importante In una casa Ovvero Una vetrina Sì Una vetrina Perché una vetrina Adesso ve lo spiegherò Voglio Ma cos'è sto lag Ok anche il lag È sistemato per bene Voglio una cosa Very very cool In mezzo a casa Allora Faremo una cosa Così E la voglio Almeno 5 Per 5 Ok Tanto ferro Ne abbiamo molto Quindi ce la possiamo permettere Adesso vi faccio vedere Anche meglio Di cosa sto parlando Allora Facciamo una cosa Così Perfetto E ci mettiamo Tutto Questo In vetro Intorno Beh logicamente Farò delle piccole Colonne Dei piccoli Pillars Allora Salta per favore Ok 1 2 3 Anche di qua 1 2 1 2 3 Anche di qua 1 2 1 2 3 Non so se verrà bene o male Però voglio provarci Perché l'idea è bella 1 2 1 2 3 Ok Qua in mezzo Metteremo Così Poi potremmo anche sostituirlo con del vetro colorato Anzi proviamo subito Vediamo un po' Vetro colorato Proviamo col rosso Col blu O con il Con l'azzurro Ok Vediamo un attimino come viene Adesso Scusate un secondo me Adesso Teoricamente Potrei costruire Degli occhiali 3D Minecraft Si Che figata Lol Comunque Chiusa questa parentesi Facciamo le nostre vetrinette Ok Tac e tac Tic e tac Perfetto Allora andiamo anche a fare La stessa cosa di qua Adesso capirete anche perché sto facendo Questo Questa cosa assurda Ok Andiamo a Chiudere anche qui Perfetto Prendiamo dell'acqua Ok E adesso vi posso dire che cosa voglio fare Voglio fare Un acquario gigante What the fuck Yes Un acquario gigante E adesso vi spiegherò Che pesce voglio metterci dentro Oh Dall'effetto che volevo Però che effetto volevo Questo è l'effetto che volevo Mi sa Però aspettate Prima devo metterci il pesce dentro Pesce tra virgolette Adesso vedrete chi è il pesce Il pesce è Un golem di ferro Si Il golem di ferro Adesso ne avremo la conferma Penso Non dovrebbe E ripeto Dovrebbe Prendere danno Da Soffocamento Vediamo qual è il punto Dove si capisce meglio Che c'è un golem Questo decisamente Direi che è il modo Migliore per capire Che dentro c'è un golem Quindi utilizziamo I pannelli blu In pratica ragazzi Io in mezzo a casa Voglio un golem Che Giri In mezzo all'acqua Si Voglio un golem E daremo anche un nome A questo golem Aspettate un secondo Se io prendo un incudine No ragazzi Ho un'idea malata in mente Di quelle Allora Targhette Sto progettando insieme a voi E la costruzione della casa Sarà Tutta Progettata insieme a voi Anche con le mie idee più stupide Perché c'è il lag Non capisco mai Sto lag ragazzi Comunque Andiamo qua Spero di scriverlo giusto Dinner Bone Prega di averlo scritto giusto Si Non ci credo Non ci credo Ragazzi Questo è L'intrattenimento Ufficiale Della mia casa In mezzo alla mia casa Ci sarà un golem Che sta A testa In giù E si chiama Dinnerbone E sta nell'acqua E' scandaloso Ragazzi Oddio Cosa mi guardi Per favore Sei inquietante Oddio Santo Ragazzi Idee malate di ferre For the win Primo capitolo Oddio Chiedo scusa A tutti i golem Che stanno guardando Questo video Ok Andiamo a sostituire I pannelli colorati Eppa Eppa No Calmi Stiamo Calmi Ok Ok No ragazzi Questa qua è una delle idee Più malate Ma forse anche più bella Che io abbia mai avuto In tutte le In tutte le La prima Seconda stagione Di un mondo di cubi Perché è veramente Bellissima Questa idea La devo Cioè devo assolutamente farla Anche nel mondo di survival Perché E' troppo malata Come idea Non posso non farla Scrivetemi Come al solito Oddio Cosa sto scrivendo Cosa sto facendo Oddio Allora Allora Scrivetemi Come al solito Nei commenti Ma perché Non riesco a piassare i blocchi Stupido Blocco Che alla fine Non sei nemmeno un blocco Vergognati Allora Ok Sostituiamo tutto Nel frattempo metto anche T Slash No Si No slash Va giusto Time Set Zero Da questo nuovo update Di minecraft Si può fare anche T Slash Time Set Day Che funziona lo stesso Oh cacchio Mossa Opla Ehm Mi serve Mi serve Se riesco a prenderlo Ok Il blocco Allora E si ma non ho preso il blocco Che mi interessava Questo qua Voglio Ok Per chi non lo sa Schiacciando la rotellina Del mouse Dovreste riuscire a pigliarvi Il vostro blocco Ok Questo è tutto Si Eh lo so Una delle idee più malate Di un mondo di cubi Ricordatevelo Voglio anche la possibilità Di poter andare A fare il bagno Col golem Quando voglio Quindi farò una cosa Del genere Ovvero Io arrivo qua Ok Mi butto Volo col golem Vedo un po' il golem Poi io di qua posso scendere Quindi cartello Cartello Oppure anche Scaletta Si scaletta va bene Uguale Ok Tac Ok Quindi io teoricamente Se scendo di qua Dovrei essere Asciutto Si E dove hai laggato Oddio Non capisco perché lagga di continuo Sto maledetto minecraft Allora Saliamo su di qui E si Questo diciamo che Il centro della casa È concluso Wow No davvero Questa qua È The best Idea malata Non so La proprio La idea più malata Che ho mai avuto È questa Indubbiamente Mettere un golem A testa in giù In una vasca Dentro la mia casa What? Va bene Va bene È giustissimo Allora Andiamo di qua Andiamo di qua Perché dico sempre Andiamo di qua Lo dovete dire Nei commenti Ditemelo Adesso qualcuno Se ne uscirà fuori Con qualche commento Sulla rivoluzione Del mondo Nel frattempo Guardo il timer Che appunto Mi segna che Il nostro tempo Sta per scadere Ragazzi Eh si Purtroppo si Qua appunto Il pavimento sarà il legno Perché il legno È bravo Il legno Lo stimo Il legno Spacca i culi Quindi Ok Faremo Diciamo un pavimento 5x5 In 4 zone Che appunto Si ridistribuirà In questa maniera Quindi 5 più 5 Più 5 15 Quindi verrà un 15x15 Escluso il golem al centro Ok Questo qua è Indicativamente la misura Anche se Potrei farlo tondo Potrei farlo tondeggiante Eh Scopriremo poi dopo Come far diventare un quadrato Tondeggiante ragazzi Senza doppi sensi Per favore No doppi sensi Please No Non fatelo No I doppi sensi No Ok Andiamo di qui Perché andiamo di qui Lo dico sempre Oddio È una malattia È una malattia Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Basta Allora Opla Opla E andiamo di qua Sì Allora 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 Adesso 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 Faremo dei pillar Con legno Così Alti 5 Stavolta Mi piace il 5 Si lo so Quindi 1 2 3 4 5 Perfetto Anche di qui 1 2 3 4 5 Perfetto E anche di qua 1 2 3 4 5 Quindi 1 2 3 4 5 Perfetto Tutti gli altri uguali Allora Adesso Devo Oddio Ma perchè laghi Veramente mi fai Sclerare minecraft Non puoi laggare così Senza senso Non puoi Mettiamo 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 Qualcosa qua Ci deve stare qualcosa qua Che bello che è il golem Lol Allora Non ne ho più parli L'idea ragazzi Di cosa metterci Comunque Oddio Devo pensarci Dovete inviarmi ancora Qualche feedback Qualche screenshot Come solo voi Sapete fare E io appunto Avrò Qualche idea in più Allora Penso che adesso Farò qua Una stradina Ok Comincio a Ingranare Capire che cosa voglio Veramente Ok Sto improvvisando Tutto quanto Adesso Poi logicamente Lo aggiusteremo Pian piano Però In creativa Vedete che è molto più semplice La modalità Veramente utile La creativa Ok Ci sarà una cosa del genere Che da qua Mi porta Alla casa Penso che cambierò Tutto ragazzi Perché solo Il golem Veramente Mi ispira Anzi Ci faccio Un bello screenshot Perché Mi sono innamorato Follemente Di questo golem Golem Girati Ok Non si è girato Ma va bene lo stesso Stupido golem Allora ragazzi Direi che Purtroppo Visto che oggi Ho poco tempo E visto che Devo progettare principalmente La casa E fare molto lavoro Off camera Quindi Il resto degli episodi Vi annoierei Il video di oggi Probabilmente sarà un po' Più corto Del solito Però Io come al solito Vi ringrazio Adesso farò anche i saluti Vi invito a lasciare Un bel like Perché youtube È stronzo A commentare A iscrivervi Sapete benissimo Quello che volete fare E perché no Chi vuole può anche fare P1 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 Ho fatto un commento Sotto un video Mi ho preso tipo 9 P1 Sono euforico Sono veramente Contentissimo Allora Detto questo Da dinner Buone tutto No È troppo bella Sta cosa ragazzi Guardatelo È un grande golem Sì Non soffoca eh Non soffocerà mai Questo è il fatto Wow Niente ragazzi Quindi io vi dico Che per questo Vi è tutto Probabilmente magari Si spawnerà Uno squid Qualche polipo Qua dentro E saranno tipo La coppia The best EU E E niente ragazzi A proposito Anche the best EU Non posso più dirlo Perché ho notato Che lo dice Surreal power Quindi Visto che poi Vi incazzate Non dirò neanche più The best EU Ok Quindi ogni volta Che copio la frase Di un youtuber Voi dovete dirmelo Perché altrimenti Molta gente Si incazzerà Comunque ragazzi Lavorerò molto Off camera Se volete darmi una mano E Inviatemi Degli screen E io Logicamente Lì Ve le vedrò Tutti quanti Ringrazierò Tutti quanti In ogni caso Anche se lo screen Non mi piace Comunque apprezzo Il vostro sforzo E Quindi appunto Come ho detto Ringrazio Antonio E Luca Che sono stati due Bravissimi utenti Che mi hanno Passato lo screenshot Logicamente Anche voi Che state guardando Il video Lo siete Non è che siete Da meno E E niente Quindi Adesso faccio i saluti E ci vediamo Nel prossimo video Ok ragazzi Eccoci Con lo spazio Per i saluti E ho notato Che Vi siete accorti Che Diciamo Questo Questo inventario Si Ristringe O comunque Cambia dimensioni Quando faccio I saluti E' normale Sare tranquilli Perché Per tenere Il blocco note Aperto E leggervi Devo Appunto Rimpicciare la schermata E non posso stare In full screen Quindi Facciamo i saluti Di oggi Che sono ben 4 Sono per Freaky Frames Oddio Freaky Frames Si qualcosa del genere Zedani 25898 Su numero di telefono Si Alessandro Marcazan E Degarg Quindi Io vi ringrazio Tutti e quattro Ringrazio anche Chi sta guardando il video Perché appunto Mi seguite sempre Vi invito Come al solito A mettere like Eccetera eccetera Come detto prima Spero che il video Vi sia piaciuto E quindi Non mi resta che Ringraziarvi Come al solito E darvi appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti